Il ragazzo si è abbalso della facoltà di non rispondere, ha chiesto scusa e si è scusato per quel che è successo, ha spiegato come in realtà non avesse in animo quello di uccidere nessuno e per il resto, essendosi abbalso della facoltà di non rispondere, rimandiamo in tutto ad un'altra occasione per ritrovare con i magistrati. Mi abbalso della facoltà di non rispondere, quindi non mi sembra una domanda che merita risposta in questo momento. Una decisione che lei ha deciso? Io però devo scappare in procura perché proseguono le attività, quindi se non scusate... A questa domanda non rispondo in questo momento, aspettiamo di rendere interrogatorio con i magistrati dopodiché si saprà. Avete sicuramente molte più informazioni voi per quel che ho letto finora. Ma come l'ha provato? Provato, chiaramente, molto provato. Che cosa le ha detto avvocato, le prime cose che le ha detto quando lei l'ha visto per la prima volta stamattina? Era molto provato e dispiaciuto per quel che è successo. È un dramma che ha investito più famiglie sicuramente, dispiaciuto per quello che è accaduto a Luca, al ragazzo, però per ora basta così. La mamma di Valerio è distrutta, come è normale che sia. Sì, ci sono avvalzi entrambi della facoltà di non rispondere. Dottoressa, ci dica qualcosa. Ci sono avvalzi entrambi della facoltà di non rispondere. Qualche novità, cosa ci portare in ufficio? Signori, per favore. Ci sono avvalzi entrambi? Signori, per favore, grazie. Sì, ci sono avvalzi entrambi. Sì, sì. Sì, sì.